Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, che trovate tornando a casa il cibo caldo e visi amici. Considerate se questo è un uomo, che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per un pezzo di pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato, vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando a casa, andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli o vi si sfaccia la casa. La malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Grazie. 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 Grazie.